SIGLA Beatrice, lo sai che non possiamo farti uscire? Sei sottoposta a misure giudiziarie restrittive. Ho detto di non toccarvi. Ho capito che cerca di fermi una corte, ma non mi tocci. Bisogna che tu impari a relazionarti con gli altri ospiti. Chi è? Non è nuova, non è nuova, non è nuova. Sentatevi di succedere in detenzione. Te un po' di cazzi tu hai mai. Mi scusi a lei, la dottoressa? Non è Beatrice, porca è. Sto socializzando qui. Si sta impicciando, avanti, per cortesia. Per esempio come te la cava questa Morelli? Beatrice ha sottoposto Donatella a una specie di love bombing. Praticamente l'ha espugnata. C'è un autobus! Lo aspettiamo stasera per piacere, è una bravata. No, la macchina, no! La macchina! Ma Tchaikovsky, eh? E qui si deve avvertire subito le forze dell'ordine. Siete matte? Secondo alcune perizie sembrerebbe di simile. E basta di stare sempre male, basta. Voglio stare bene. Vogliamo stare bene. No. Che cosa è la nuve? No. No, no! Magresti?